Concluso il grande fratello VIP, cari amici Edoardo Donnamaria e Edoardo Tavassi, che abbiamo visto nell'immagine di copertina, non hanno mai pubblicato foto, non hanno mai pubblicato video insieme, e questa distanza tra i due, che si evince da questo, no? Molto uniti, tra l'altro all'interno della casa, ha in un certo senso preoccupato i fan, i loro fan, coloro che li seguono. Fin dall'arrivo del fratello di Guendalina Tavassi nel reality show, Edoardo Donnamaria ha subito stretto un forte legame, perché ci si è trovato subito bene con lui, e la cosa poi è proseguita, non con pochi problemi, certo, ma quella normale che ci siano, e questi se li sono trascinati fino alla fine del reality, vinto poi dalla modella triestina Nikita Pelison. Finita la settima edizione del GF VIP 7, però, le cose sono cambiate e i loro fan hanno notato che i due non sono mai apparsi insieme in foto o video sui social. Edoardo Tavassi, fidanzato con Nicole Incorvassi, ha festeggiato insieme al resto degli spartani, Oriana, Jaele, Nicole Murgia e Alberto, mentre Edoardo Donnamaria ha seguito la fidanzata Antonella Fiordelisi. E lo stesso copione è stato seguito durante la festa organizzata a Roma per la fine del reality show condotto da Alfonso Signorini. Nella casa del GF VIP 7, Donnamaria ha spesso ligato con la fidanzata a causa della sua vicinanza agli spartani e usciti dalla casa ha deciso di chiudere i ponti con tutti. Non solo, da Instagram ha tolto il follo a Nicole Incorvaia. Con la sorella di Clizia aveva avuto una storia prima del reality show. Durante la festa del GF VIP 7, Tavassi e Donnamaria non sono stati fotografati vicini. Il fratello di Gwendalina è rimasto in compagnia della fidanzata Nicole e del resto degli spartani. Mentre il volto di forum ha trascorso la serata con la fidanzata Antonella Fiordelisi, la vincitrice Nikita Pelizzon e il gruppo dei persiani. A fine serata, però, i due sono stati fotografati in disparte, forse intenti in un chiarimento. Secondo le indiscrezioni di Alessandro Rosica, il famoso investigatore social, l'incontro avvenuto alla fine della festa del GF VIP 7 non avrebbe portato a niente. Tavassi e Donnamaria ieri sera si sarebbero parlati e alla fine non avrebbero chiarito nulla. I due erano freddissimi e a quanto pare ognuno prenderà la propria strada. Cosa ne pensate? Ha scritto Rosica sui social. Pensiero condiviso da molti utenti social. Cari amici, per questo video è tutto, vi ringrazio per la visione, mi raccomando lasciate il vostro segno qui sotto, un bel like e se non siete iscritti iscrivetevi al canale oppure seguite la pagina, è tutto gratis. Vi ricordo che in questa pagina si parlerà di gossip tv, spettacolo, politica, sport, curiosità e tanto altro. E se volete potete trovarmi anche sul format di intrattenimento basta cercare Gratta e Vinci con Max e lì ci divertiamo un po' con i famosi Gratta e Vinci, tanto pago io che me frega. Detto questo vi saluto, mi raccomando vi aspetto al prossimo video. Ciao, un saluto da Max.